Musica 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 Il nostro paese è più bello che la città, così dici, e per parlare sui paesi abbiamo parlato di progetti di una municipalità e abbiamo avuto un'altra strage, un'altra spaiata che ha avuto in 1934 che ha tombato a 37 persone qui in paese, abbiamo avuto un ricordo di questa catastrofe con la città di Keragui, una paese che ha testimoniato di questo evento che ha marato in paese. Ma dipendendo di madina Nortiborio, se senti prima ormai morire di città, sono 17 inscritti in questa scuola così importante in paese. C'è un cadre, io direi, presque familiale, on crée dei automatismi, dei liens con i bambini, ce che facilite il lavoro, on crée dei automatismi. Quindi abbiamo, d'un anno sull'altro, più di facilità a lavorare, perché, diciamo, abbiamo già conosciuto per cuore. La difficoltà delle scuole rurale, ancora, è soprattutto l'isolement, che abbiamo cercato di rompere a través dei progetti comuni con altre scuole, come l'Ecole di Monte o l'Ecole di Barquette. Siamo qui in Corri Baesi, che accontano la città, ma la città, ma la città è stata installata un piano di tarra non convene più e sarà spiazzato da qui a poco da un bambino, non o no. E dopo la scuola, sono una malata idiomani aveva certo di sta in Ortiborio e di vacia zoita, e il gaso di romano che faccio per cadio e continuo a fare la città. La città è stata passi città. Io non mi voglio vivere ailleurs, e c'è vero che per vivere qui, l'ideale, c'era di lavorare là, e il fatto di lavorare sulla place, c'è interessante, anche se la charcuterie, non è evidente, l'elevaggio, tutto ciò, ma al fine, ciò mi piace, e poi sono dentro, quindi, al fine, non mi voglio fare altro. Ed a permetta a installazioni d'altri giovani, un mancano i progetti, poi Uba isolo di Ebbiazza e Ameria si è recuperata a casa e il baronno Moroni, con l'aiuto dell'ufficio Vondario, su casa l'emblematico di Ubaiesi sarà presto arrivato. Il progetto è di andare a tre appartamenti, due in un'antelade, un'andolo e mezzo, e una sala di migliori, che abbiamo lavorato per visione. e dunque, se abbiamo un po' irritato, ma anche a vivere non è un comesso, un po' nemmico le riso volui per poterlo fare. E i capatogli sono numerosi per i meri i tuoghi Baesi all'interno, perché le sartine is agarcozza sono 17 anni, che è da capo Iazogum. Un meri dei Baesi ha un sacrificio, un grosso sacrificio tramite tutti i obietti da Ganto, e io ho messo tutti i miei bambini da Ganto, ma anche a Gaccia, perché è mora in dei bassini, e io ho messo a Ganto, dove può soddisfare tutta questa gente, perché non ho messo i bambini che mi hanno messo i affari. C'è un cotto Suisse. Quindi bisogna farlo. Bisogna fare il fosso ailleurs. I baiizani non so come noi, non c'è il gassi. Per noi non c'è nulla cosa, non c'è nulla cosa. Ma madre è obbligata di fare tutto. Non come le vende, le vende hanno tutte le ragazze, tutte le russi le ragazze. Come è bigo, fa stai stilu. Stilu sono fosti mai. Se fossero anche le maniche e le zappe di Diego, anche se fosse un ucciolo. L'entranno in un'esame di Sant'Austino non si può passare accanto a ciò che forza l'avvenimento più importante della storia d'Urtiporio. Nanta su Marmaro ucciso i nomi di 37 persone che aveva persa vita in una sfaiata in neve di Frivalio 34. Maria aveva attenduto 7 anni, ma sono tigui fermastampati in assomenti. C'è passata la notte, perché noi siamo vallati le mollagà di Kwasso, e ho mozzi, ha detto Popolo, valla a un'edile. Accompagnare a un'edile della fonda, non mi provo che aveva la sola con San Ebre. E l'avvenimento ha avuto la nuve, due 4. Presque la maggio dei giorni è morti. Tutto il cote di là che descendono in basso alla riviera. e c'era 40 o 50, non lo so ne ricordano. C'è triste di aver parte una famiglia entiera. ma c'è stata la famiglia entiera che è stata partita. 5 anni fa il padre e la madre. C'è qualcosa di terribile. C'è stato un'edile. C'è stato un'edile. in un'edile. C'è stato un'edile. C'è stato un'edile.